A Pescara i parcheggi a pagamento sono sempre di più, una questione che ovviamente genera un certo prurito nella cittadinanza, la posizione del Partito Democratico qual è? È ferma soprattutto nell'opporsi a questo scelleraggio che è stato posto in atto da questa amministrazione, giustificando semplicemente la necessità di dover reperire fondi per una scarsa programmazione a livello di bilancio. Quindi noi adesso ci troviamo effettivamente un'amministrazione che deve mettere i conti a posto e l'unico modo che ha per farlo è quello di tassare fortemente la cittadinanza. Non c'è la proporzione che dovrebbe esserci, secondo norma, degli spazi appunto a disposizione dei residenti e dei cittadini bianchi, quindi quelli liberi, e gli spazi a pagamento. Qui noi sappiamo che l'ospedale è una zona importante dove sono in tanti che vengono ad assistere i parenti, eccetera, quindi effettivamente il pagamento non è assolutamente giustificato e va a penalizzare chi purtroppo vive già sulle proprie spalle delle grandi sofferenze. Non è un caso che questi parcheggi blu anche dinanzi all'ospice e sappiamo bene la realtà che viene ospitata lì. Questo è uno dei casi, ma anche in via Passo Lanciano, dove ci sono ovviamente gli uffici provinciali, eccetera, adesso abbiamo anche il coreutico. Ancora una volta, insomma, il MIB viene penalizzato da questa amministrazione e non viene affatto considerata, tant'è che sono in tanti, docenti, studenti, eccetera, che hanno necessità, insomma, di poter vivere quella zona in modo diverso e soprattutto con dei parcheggi liberi. Ecco, perché lei giustamente ricordava i guai finanziari del Comune, anche emersi di recente, che giustificherebbero questo aumento dei parcheggi a pagamento. È davvero così necessario per rimettere i costi a posto o potrebbero esserci altre soluzioni? Non è necessario, secondo il nostro punto di vista, perché ci sono altre modalità per intervenire e, insomma, andrebbero riviste magari anche alcune programmazioni che hanno portato avanti. Non ultimo, quello che hanno fatto con Viale Marconi e con l'incidenza economica che Viale Marconi ha determinato sul bilancio della nostra amministrazione.